L'hai fatto la vostra? E' la città? Eh? E' la città? E' la città? Beh, ora vediamo qui in fondo una bella filmetta e la casa mi da la chiavetta e la mia... Vento che la vita è già cliccata per me Ma no, grazie, non mi piace farmi prestare cose dai pc Signore, e' il tuo prossimo la città? Ti sento diretta la cosa facile Ma che cosa hai preso? Il portico... Vesti di... Non c'è... ... Voi essa cosa? Voi tu parles, tu parles, non c'è? Voi tu parles, tu parles! piccoletta comunque secondo me se vuoi dire giù tanto via cioè solo che a te pensavo che fosse una persona cioè un essere umano sì però sai questo tempo cioè se ci avessimo bisogno avrebbe fatto il mio sulla bianca secondo me e invece siccome questa non c'è capo lì dentro tutti e quattro e gli scalda il sole e questa è l'ergo è uguale questa sta lì però in animal crossing per nintendo 3ds posso mettere il mio stile di creare la casa dei miei sogni posso rilassarmi o fare sport posso andare in passare delle stagioni e governi la libertà fin totale ah lo voglio andare in giro e contro tanti nuovi amici posso correre alla riporta o scatenarmi tutta la notte in discoteca la vita è per... 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 su nintendo 3ds disponibile anche negli shop forza viene la finzione di la cabella su frelu c... Grazie. 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 Credo che riuscirò a salvarle in piedi. Si tratta di cuore. Ma quello che non hai è il cuore. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.